Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui vi farò vedere come misurare in maniera corretta il pH di una soluzione mediante l'utilizzo di una cartina tornasole. La cartina tornasole è contenuta in questo rotolino e è una carta porosa sulla quale sono state depositate diverse sostanze che possono cambiare colore a seconda dell'acidità della soluzione con cui vengono a contatto. La cartina tornasole viene utilizzata in questa maniera. Se ne stacca un pezzettino, dopodiché si prende una spatolina o una bacchettina di vetro da laboratorio. Questa è la soluzione della quale vogliamo scoprire il pH. Si immerge la spatolina nella soluzione stessa, si tira fuori la spatolina sulla quale ci sarà una gocciolina di soluzione e la spatolina viene strofinata, così come ho fatto, sulla cartina tornasole. Una volta fatta questa operazione si confronta il colore della cartina tornasole con quello che è diciamo più proprio sulla scala graduata dei colori impressa sulla cartina tornasole stessa. Direi che si tratta di un pH piuttosto alcalino, cioè basico. Sarà intorno all'11, magari anche 12, 13. In questo caso la mia cartina tornasole è in grado di misurare pH da 1 a 11. Ce ne sono altri tipi che sono in grado di misurare da 1 a 14 oppure soltanto altri tipi di intervalli. Questa cartina tornasole ora sarà da buttare via e si potrà eventualmente procedere ad un altro tipo, ad un'altra analisi. Allora un errore che spesso vedo commettere dagli allievi è quest'ultimo. Quando si chiede di loro di misurare il pH di una soluzione, prelevano un pezzettino di cartina tornasole e immergono la stessa all'interno della soluzione. Ora questa operazione non è corretta. Non è corretta in quanto se io ho la mia soluzione di una certa importanza e immergo questa cartina al suo interno, è chiaro che c'è una sorta di effetto lavaggio, ovvero la soluzione solubilizzerà un bel po' le sostanze presenti sulla cartina tornasole stessa e le sostanze medesime finiranno ad inquinarmi la mia soluzione. Quindi questa operazione non è da fare. L'operazione da fare, ripeto, è inserire una spatolina o un vetrino, una bacchetta di vetro all'interno della soluzione, prelevarne una goccia e questa goccia spalmarla, per così dire, sulla cartina tornasole stessa. Se questo video vi è piaciuto vi invito naturalmente ad iscrivervi al mio canale. Grazie dell'ascolto e alla prossima!